Nell'ambito del progetto ESVE abbiamo deciso di dedicare attenzione al tema del finanziamento alla politica, delle donazioni a partiti e movimenti politici, perché questa è una delle nuove vulnerabilità strutturali emerse nel contesto attuale in Italia, nuova, non in senso pieno, nel senso che evidentemente la politica ha avuto bisogno di trovare finanziamenti, fonti di finanziamento più diverse nel corso degli anni. Però i processi politici che sono avvenuti in questi ultimi anni, che hanno portato alla formazione di nuove organizzazioni, di nuove enti, think tank, fondazioni che partecipano all'attività politica di questo Paese, lasciano margini sempre più ampi per interferenze da parte di interessi privati o di interessi esterni. Il quadro legislativo degli ultimi anni prevede una serie di riforme, una dietro l'altra, breve distanza di tempo, molto significativa per quello che ci interessa, cioè il tema della trasparenza, è la legge 96 del 2012, a cui poi ha fatto seguito il decreto legge che ha abolito il finanziamento pubblico diretto 149 del 2013, e poi abbiamo la cosiddetta legge spazzacorrotti del 2019, il decreto legge crescita sempre del 2019. Questa normativa è complicata sia perché appunto si sossegue e cerca di rincorrere la tematica, sia anche per il modo in cui è stata approvata, ma poi anche per esempio il decreto legge fondamentale che ha abolito il finanziamento pubblico diretto, che prevede due diverse definizioni di partito politico. Questo crea un intrico che si sovrappone al già precedente assetto normativo che si era stratificato negli anni. Ci ho detto che alcune linee di fondo possono essere individuate, tra cui sicuramente quello dell'avvento della trasparenza, della rendicontazione. Se si pensa appunto che davvero il comparto del finanziamento e della trasparenza è un ginepraio in cui esistono 13 diverse norme, esistono delle regole molto diverse per quanto riguarda il livello locale, regionale, nazionale, beh, dall'idea appunto che in questa estrema complessità spesso si anneghino i problemi e la mancanza di una regolamentazione davvero efficace. I partiti hanno reagito male, nel senso che la norma che ha definanziato i partiti politici è stata fatta un po' sull'onda della pressione dell'opinione pubblica, del successo del Movimento 5 Stelle, però i partiti non si sono ancora adeguati, non sono capaci di attrarre i finanziamenti dal basso, con microfinanziamenti. E ugualmente c'è anche un certo timore da parte dei finanziatori privati perché non c'è una grande conoscenza del sistema attraverso cui si finanzia la politica, per cui si ha paura a volte anche di finire nelle indagini sotto le lenti della magistratura e quindi secondo me fino adesso sia da parte di chi deve dare i soldi, da parte di chi li deve ricevere c'è ancora una certa incapacità a gestire questo nuovo contesto. Poi quello che stiamo vedendo è chiaramente il proliferarsi di strutture, associazioni, comitati che vengono utilizzati per raccogliere fondi e quindi sostituire quella mancanza di flusso verso i partiti con un flusso verso altri tipi di organizzazioni. Ad oggi alcune informazioni sui candidati, sui bilanci dei partiti, sulle donazioni fatte sia ai candidati che ai partiti di fatto sono pubbliche, c'è l'obbligo di legge di pubblicarle, però la grande differenza è come queste informazioni vengono messe a disposizione. Spesso parliamo di fogli scansionati in maniera illeggibile, caricati online su informato PDF, c'è la pecetta selvaggia come la chiamiamo noi, cioè molte informazioni vengono coperte e quindi non si riescono neanche a leggere. Tutto questo in realtà è solo un preambolo al vero problema, cioè che sono dati non riutilizzabili, cioè non sono accessibili, non sono leggibili, non sono dei file Excel per parlare in maniera molto concreta che permettono a noi analisti e società civile di analizzare la materia e realmente monitorare sulla questione. In un contesto in cui non vi è più il finanziamento pubblico diretto ai partiti e ai movimenti politici riscrivono nuovi spazi per vulnerabilità del sistema politico italiano, vulnerabilità sia ad attori esterni sia a interessi privati che vanno a dominare su quelli pubblici che dovrebbero in qualche modo caratterizzare per arricchire il dibattito pubblico. La trasparenza è un elemento chiave per permettere ai cittadini un controllo diffuso di come i partiti, di come le forze politiche, di come la politica in senso lato si finanzia, senza illudersi che i cittadini passino le loro giornate a controllare i siti dei partiti. Naturalmente però mettere la società civile in senso allargato, siano le associazioni che si occupano di trasparenza e di altre tematiche, i giornalisti nella condizione di poter realmente controllare dei dati, dei dati quindi che debbano essere in formati leggibili, in formati riutilizzabili, quindi parlo di formati aperti, questa è una delle prime cose. Grazie